Il lavoro che voglio fare adesso è darvi la prima impostazione, togliere abbastanza la legislazione in modo da fare per migurare la pianta all'interno. Avevo due scelte, o fare una cascata o fare l'impostrato. Ho deciso per la seconda, per l'impostrato, perché la cascata veniva un po' troppo drastica e veniva tagliata poco. Andava bene se questo lavoro lo faceva a casa, ma in dimostrazione rimaneva ben poco. Adesso inizieremo e poi avanti vediamo quello che viene fuori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno 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 Buongiorno